Non chiediamo documenti né niente, non facciamo domande, accogliamo col sorriso e basta. È un'iniziativa unica nel Valdarno Arettino ed in particolare a San Giovanni. Duccio e Niccolò, due giovani commercianti dal mese di marzo, hanno aperto nel loro locale il frigorifero sociale. In pratica è una colonna del loro frigo dove chi fa fatica ad arrivare a fine mese può trovare delle vaschette monodose con primi, secondi e contorni al prezzo simbolico di un centesimo. Tutti i giorni abbiamo qualche vaschetta perché sono prodotti di solito vicini alla scadenza, ma quando non abbiamo prodotti vicini alla scadenza mettiamo comunque qualcosa a disposizione affinché tutti i giorni ci sia qualcosa a disposizione per chi ne ha bisogno. Avete messo una piccola regola, è chiaro che non siete un ente pubblico, non potete verificare se l'ISEE è quello corretto o no, però avete messo una piccola regola per evitare un eventuale abuso da chi non ne ha bisogno. Sì, diciamo giusto per, siccome non possiamo chiedere l'estratto conto all'ISEE appunto, abbiamo messo una regola, massimo due vaschette a persona e così limitiamo chi volesse provarci. E poi abbiamo messo un prezzo simbolico proprio per staccare lo scontrino che è d'obbligo, abbiamo messo un centesimo a vaschetta per chi viene a trovarci. Un modo per combattere crisi economica e spreco alimentare in una struttura, quella aperta da Duccio e Niccolò, che ha l'ambizione di diventare un incontro tra arte, gastronomia e adesso anche sociale. Chi è venuto per adesso? Ci sono venute delle genitori di varie categorie, in più stanno passando ogni venerdì anche i boy scout, fanno anche loro un'opera molto importante e che noi cerchiamo di supportare al meglio. Quindi famiglie, non c'è un target preciso, varie persone di varia estrazione.